Il sindaco sociale mi chiede, è evidente che se non ho il consenso di cittadina, mi riesco tanto in cambiamento e basta. Se ho il consenso, mi devo imparciare a lavorare per il palermo, che la misesione pubblica è indissesso, indissesso. E c'è la disperazione per il saluto, la disperazione. Noi adesso beviamo un bottino di vino, grazie alla sua cortesia, ma lo beviamo senza dimenticare i problemi di palermo, senza dimenticare il pubblico.